Salve ragazzi, ciao a tutti, nessuno escluso. Non avrete mica pensato di passare tutta l'estate senza neppure un momento fra noi? Eccoci qui infatti. Purtroppo in questo periodo non ci è permesso di ritrovarci insieme di presenza ma ugualmente abbiamo voluto dedicare qualche momento alla nostra amicizia con questo diario di bordo utile per continuare il nostro viaggio incominciato insieme lo scorso anno. Vi ricordate la mongolfiera? Ecco vogliamo continuare ad esplorare insieme nuovi modi di viaggiare per conoscere meglio noi stessi, la nostra famiglia, i nostri amici e approfondire la nostra amicizia con Gesù. L'amore infatti viene in vacanza con noi comunque e dovunque, come quella sera di quei due amici che se ne vanno verso Emmaus perché hanno paura di restare a Gerusalemme e Gesù li raggiunge e si mette in viaggio con loro. Nel nostro viaggio ce n'è per tutti, troverete del materiale utile per la partenza già da oggi, partiamo insieme come famiglia, perciò mentre i nostri genitori si riuniscono online per riflettere e parlare tra loro, noi riceviamo il saluto degli animatori di Animateva di famiglia e le piste per un percorso a tappe da vivere insieme come famiglia e come amici. Nel materiale di bordo troviamo un commento al Vangelo che racconta il viaggio dei discepoli di Emmaus scritto da suor Melania, la new entry sul versante biblico, dei video con la storia di un viaggio fantastico raccontata da Cosetta e l'incontro con un suo speciale collaboratore che lei stessa vi presenterà. I più grandi di Animateva troveranno poi proposte di canzoni, video, immagini a tema utili per riflettere, condividere, metterci il cuore. Nei prossimi giorni troverete ancora diversi appuntamenti per giocare, costruire, riflettere, condividere. Allora partiamo insieme? Occhi, mani, piedi e cuore pronti? Buon viaggio a tutti, vi passo il diario di bordo.